Ho scheggiato il parabrezza, credevo di giocarmi tutta la giornata e invece no. Devo ringraziare Paolo di Dr. Glass per la velocità e l'accuratezza con cui ha riparato subito il mio cristallo. Beh, non per niente sono dottori. Quando devi riparare o sostituire il tuo parabrezza, affidati a chi è dottore in materia. Affidati a Dr. Glass, una rete di centri specializzati presenti in tutta Italia e convenzionati con le principali assicurazioni per interventi di qualità, veloci e garantiti a vita. 810 10 10 o drglass.com Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.